Che cos'è un classico? Che cosa sono i classici? Si risponde spesso a questa domanda dicendo che i classici sono nostri contemporanei e con questo si tende a cancellare la distanza spazio-temporale che ci divide dai classici. L'intento naturalmente è comprensibile, si dice che i classici sono nostri contemporanei perché con questo si vuole dire che i classici non sono a lettera morta, che i classici ci parlano ancora oggi nonostante il tempo, lo spazio non siano più gli stessi della loro produzione. Ebbene io credo che questa idea dello classico come nostro contemporaneo sia rischiosa, rappresenta il rischio di una addomesticazione dei classici. Ma che cosa significa addomesticare un classico? Significa proprio tentare di cancellare il suo essere altrove, il suo incarnare un altrove che vuole parlare al nostro tempo, ma partire da uno spazio-altro. Il classico è precisamente un altrove, un altro spazio-tempo che ha la forza di iscriversi nel nostro tempo, aprendo però uno spazio-altro, non essendo immediatamente assimilabile al linguaggio, alla cultura e alla sensibilità del nostro tempo. I classici sono delle lettere straordinarie, straordinariamente ricche, che sono state scritte da amici che tuttavia non sapevano a quali destinatari scrivevano e non sapevano in quale luogo sarebbero arrivate le loro lettere. E noi ci possiamo definire destinatari, ma non perché siamo dei destinatari privilegiati. Nessuna epoca è destinataria del classico, ma ciascuna epoca può in qualche modo rendersi degna di essere destinataria di un classico perché si misura con la comprensione, la lettura e il confronto con un classico, sapendo che non lo esaurirà. In questo senso non c'è un'epoca che è destinataria privilegiata di un classico, perché nessuna epoca ne esaurisce la lettura, nessuna epoca può esaurirne il significato, gli spunti. I classici continuano ad arrivare, è come se continuassero a scriversi per ogni epoca. E qual è allora la loro ricchezza, qual è la loro forza? Ma proprio quella di darci la possibilità di guardare altrimenti al nostro tempo. Uno dei rischi che abbiamo nella contemporaneità è quello di essere schiacciati nel nostro tempo, schiacciati in un linguaggio, schiacciati in un modo di pensare, incapaci di trovare un fuori, un punto a partire da cui articolare una visione critica del nostro tempo per cui serve una certa distanza. Ecco, il classico è l'altrove che ci permette di trovare una distanza critica rispetto al nostro tempo. Il classico quindi ci richiede un cambio di postura rispetto al modo in cui siamo soliti guardare al nostro tempo. Questo implica inevitabilmente un certo sforzo. Lo sforzo del classico è questo tipo di sforzo, di cambiare modo non solo di guardare al classico, ma di guardare al nostro tempo. Il classico ci strappa questo tempo e ce lo fa guardare diversamente. In questo senso ci può dire che il classico non è mai a nostra disposizione. Siamo abituati a un sapere che è assolutamente a disposizione, a disposizione di click, a disposizione di semplificazioni che ce lo rendano immediatamente fruibile, a disposizione di una formula che ce lo rendano simpatico, gradevole, non faticoso. Ebbene, il classico non è a nostra disposizione. Richiede uno sforzo, richiede uno sforzo per andare incontro a una lingua altra, una cultura altra, un tempo altro. Richiede lo sforzo dell'altro. L'altro non è semplicemente un alter ego, qualcuno che mi assomiglia. Io devo fare uno sforzo per entrare in relazione con lui. Se il classico è un amico che scrive lettere, ecco, devo saper costruire questa amicizia con i classici o questo amore a partire da questa distanza che devo saper coltivare. E in questo senso il classico, che mi chiede molto, mi dà moltissimo. Mi dà un'altra prospettiva, radicalmente altra, sul mio tempo, sul mio mondo, e apre un'altra dimensione del mondo. In questo senso noi oggi abbiamo un bisogno assoluto e vitale di classici.